Aldo, è normale che diventano matti a un certo punto quelli che fanno altri cioè se io prendo te come riferimento mi sa di sì categoria age group uomo, queste sono le nominations grazie a tutti grazie a tutti vorrei chiamare sul palco due giudici Laura Patti e Oscar Petroboni Buonasera Laura, buonasera Oscar ciao benvenuti come si diventa giudici, un po' come si diventa arbitri nel calcio cioè si è appassionati ma si è imposcarsi a giocare no devo dire di no, io sono stata contagiata da mio marito, a triatleta però io ero stufa di andare a collegare, star là un'ora, aspettare così necessità di giudici in federazione e hai giudicato anche lui? e mi è capitato a volte quanti cartellini? fa sempre la scia, l'ho visto tuo marito anche a miseria, davvero fidati allora devo stare proprio attenta prossima volta sto attenta Oscar come sei diventato giudice? io ho cominciato nel 92 e non c'era, eravamo praticamente in 500 e facevi anche quello non c'era, dovevi dare una mano alla federazione le mogli, le fidanzate eccetera aiutavano e piano piano l'ho cominciato a fare anch'io e volevo approfittare di questa occasione per fare un piccolo saluto a due persone molto importanti per me e per quello che poi dopo io sono riuscito a fare con il triathlon uno è Italo Botter che è stato il giudice per esperienza il giudice il giudice e purtroppo per quello che è successo a lui ho cominciato poi io a prendere il suo posto e un altro visto che io qua vedo i presidenti della mia carriera di triathlon dal 92 adesso il presidente Sbernadori e poi Bianchi il attuale presidente Bertrandi il presidente che c'era prima ne manca uno e io non vorrei dimenticarlo insomma per cui un saluto anche ad Emilio per il quale ho avuto la possibilità di lavorare ed è stato un piacere è molto bello volevo chiedervi sono diversi gli atteggiamenti degli atleti fuori dai confini italiani o più o meno alla fine insomma un triatleta è sempre un triatleta voglio dire spesso per quel poco che ho visto mi sembra di capire che la transagonistica porti un po' a dimenticare certe regole basiche Luca Sacchi prima ha detto una cosa molto giusta cultura sportiva in Italia ancora manca un pochino quando sei all'estero ti rendi conto che c'è un po' più l'aspetto del vado a fare la gara per fare la gara da noi diciamo che c'è un po' di gente che quando va a fare la gara comincia anche a pensare a come farla meglio magari o a come girarci un po' attorno le famose scorciatoie ecco per cui un pelo di cultura sportiva in più ci vorrebbe anche perché le bugie poi le gambe corte come me purtroppo per loro non per noi senti invece ogni tanto mi capita di sentire qualche amico che si avvicina appunto al triathlon e si lamenta un po' della vostra fiscalità per esempio in zona cambio tutte queste rotture di palle sul casco prima il casco dopo questi piccoli particolari c'è un po' di tolleranza o non ci può essere? ma no l'intenzione è proprio quello di è come le vigile estet è già inquadrati no no non è vero non parcheggerai mai davanti a casa tua no se ne chiedi a loro che sono qua no l'intenzione è quella adesso di adattarsi un attimino a quelle che sono a quelli che sono gli atleti a cui ci troviamo di fronte esatto nel senso che comunque se vogliamo aumentare anche il numero se arriva uno il parco bici è vuoto c'è l'ultima bicicletta se anche mette il casco dopo esatto però il rispetto delle regole ci vuole comunque sempre quindi chiaramente magari non il cartellino rosso però un richiamo è dire guarda che la regola è questa tu devi applicarla quindi bisogna cercare un attimino di aggiustare il tiro insomma come si suol dire grazie grazie per quello che fai lino su un altro piccolo inciso volevo solo dire che Laura e Oscar sono i rappresentanti appunto in questo caso dei giudici italiani Laura a Londra e Oscar a Pechino ci hanno rappresentato alle olimpiadi quindi grazie a loro grazie ancora per il loro servizio doppio grazie Anna chi vince fra gli age group? vince la categoria age group Giuseppe Solla eccolo qua bravo Giuseppe che mi pare di capire sia molto conosciuto e molto amato dai presenti senti il fatto che un age group sia così rispettato anche dai chiamiamoli professionisti che poi alla fine questo sono ti inorgoglisci no? sì nella mia testa bacata l'age group è un dilettante il professionista è un professionista l'age group è un papà di due bambini e quindi sono rispettato penso soprattutto per quello siamo quelli degli siamo quelli degli incastri anche tu dell'Alto Adige come è? no no sono sardissimo sì sì comunque mi sono incastrato c'è una tradizione anche in Sardegna comunque di triatleti sì siamo una bella terra di triatlon è da anni che tanti appassionati organizzano delle belle gare e noi e noi li seguiamo a ruota io sto invecchiando ma insomma bene mi sembra senti molti di quelli che abbiamo sentito arrivano dal nuoto tu mi pare arrivi dal ciclismo invece bravissimo io arrivo dal ciclismo e nel nuoto sono una schiappa ancora adesso e da anni che provo a migliorare non ci sono ancora riuscito e nella corsa appena salti in bicicletta no ho imparato ad amarle tutte e tre ormai nella corsa inizialmente correvo ancora seduto pensavo ancora di essere in bicicletta invece qualcuno mi ha detto stai correndo e ho cercato di migliorare anche lì è una bella un bello sport è una bella cosa di vita questa so che sei stato all'Hawaii quest'anno sì come è andata? ma per me bene più che bene purtroppo il nostro professionista si è ritirato mi ha fatto un gran regalo perché si è parlato molto di me mi dispiace sei stato il migliore italiano una volta che Daniel si è fermato sì ha fatto molto scalpore questa cosa e ringrazio i miei tifosi che mi hanno mandato qua perché grazie ai vostri voti sono qua e niente devo ringraziare Daniel anche se avrei sperato che lo vincesse lui non è molto contento di questo lo so lo so io sono arrivato invece poi quinto della mia categoria quanto tempo ci hai messo? 9 ore 29 9 ore 29 la parte più dura qual è stata? ma l'aeromandale è tutto duro dal primo schiaffo che ricevi all'ultimo che prendi uscendo dall'acqua poi c'è la bici poi c'è la corsa c'era tanto vento c'era un bel caldo umido insomma bisogna mantenere duro di testa e nonostante questo lo rifareste? l'anno prossimo vado vado a cercare quei quattro che mi hanno battuto perché questo è sardo e c'è la testa dura grazie bravo e complimenti ancora grazie Giuseppe abbiamo ancora